ciao a tutti benvenuti alla rassegna stampa di scazzo moderato come va oggi puntata inclusività oggi vi do uno sberlone di inclusività che proprio mamma mia quanta inclusività Jimmy mi sento veramente petaloso e arcobalenista allora attenzione attenzione vi ricordate che avevo fatto un video sarà non mi ricordo se era nel 2023 o addirittura nel 2021 in cui facevo vedere fra i vari psicopatici che governano le multinazionali americane ne avevo fatto vedere insomma un paio che erano veramente in cima alla classifica fra cui l'amministratore delegato della United Airlines il quale diceva che loro avrebbero fatto di tutto per diversificare i loro piloti quindi volevano che almeno il 50% dei loro piloti fossero di qualsiasi altra cosa qualsiasi altro genere che non fosse un uomo bianco quindi donne colori LGBT quello che ti pare basta che non sia un bianco eterosessuale perché è il male assoluto no? io immagino quanti americani si siano sentiti più al sicuro pensando che la United Airlines che è una delle più grosse compagnie di trasporto aereo che c'è in America pensa più al colore della pelle che non alla bravura no? cioè non prende i piloti migliori non forma le persone più capaci più presenti che hanno la responsabilità di 3-400 persone a 10.000 metri d'altezza no no gli guardano se hanno i capelli rasta gli guardano se hanno una spilla con la bandiera arcobaleno ok? bene è uscito fuori un video di un po' di tempo fa dell'amministratore delegato della United Airlines sempre lui guardate qua attenti alla botta di inclusività perché state per diventare tutti più buoni e più inclusivi allora la musica non ve la metto neanche ma state guardate bene lui che viene fuori a gattoni come se fosse Samara Morgan in The Ring ok? si guarda intorno con aria sensuale c'ha un bel parruccone biondo poi arriva e inizia a fare il suo balletto e dietro c'ha degli altri cosi ora io non so se questo sia soltanto una cosa per ridere o se effettivamente lui faccia la drag queen di professione mi sembra di aver letto ma non l'ho verificato perché non avevo troppo tempo da dedicare a questa cosa che sono stati assunti anche alcuni casualmente da quando c'è lui sono stati assunti anche un sacco di personaggi di questo genere insomma va bene va bene quindi adesso avete un motivo in più per andare fino negli Stati Uniti e votare scusate e volare con United Airlines perché lui non solo assume il 50% di persone non sulla bravura ma in base al colore della pelle o l'identità sessuale ma fa anche spettacolini con vestitini calziarete e parruccone va bene questo è l'amministratore delegato della United Airlines allora voglio precisare una cosa ok la voglio precisare bene perché anch'io quando sono cioè questa qui potrebbe anche essere una goliardata fra gli amici cioè io quando sono con i miei amici faccio le peggio cose sono più stupido e più divertente delle persone che potete incontrare una volta a un matrimonio abbiamo fatto una scenetta comica dove io facevo finta di essere la sposa e un'altra ragazza faceva finta di essere lo sposo quindi se magari uscisse quel video fra dieci anni direbbero ecco guarda anche Jimmy un'altra qui no era un matrimonio che faceva il critiro un paio di volte ero in barca con i miei amici c'era una con un abito lungo a un certo punto ho detto adesso ti faccio vedere io cos'è la vera eleganza femminile mi sono messo io l'abito ci siamo messi a fare delle foto è venuto fuori un disastro completo però ci siamo ammazzati da ridere ma erano evidentemente cose per ridere questo non lo sappiamo quello che possiamo sapere è comunque che è la stessa persona che fa le assunzioni non in base al merito ma in base al come dicevamo prima all'identità o al colore della pelle ma di quello di cui vi volevo veramente parlare oggi e qui veramente vi arriva la botta di inclusività grossa state a vedere questo video wow ma che bellezza donne sovrappeso donne che si vestono da uomo uomini che si comportano da donne donne con i capelli bianchi adesso si che siamo proprio inclusivi ora una delle tante pubblicità walk super che tendono tutte a glorificare qualsiasi cosa sia diversa da una donna normale ok una ragazza normale lì non c'è ok non c'è ma la cosa che è interessante è una che questa è la pubblicità di un'altra compagniera che è la Virgin Airlines sapete come si chiama il fondatore nonché ancora proprietario e credo gran capo della Virgin Airlines Richard Branson che è anche uno di quelli che andava sull'isola delle porcellonerie con le minorenni di Epstein nella lista dei nomi di chi andava sull'isola dei pedofili c'è anche il capo di una compagnia aerea che fa pubblicità piena di queste robe qui di uomini con i tacchi di donne di trans donne con i capelli che si è che fanno finta di essere uomini sarà un caso? non lo sappiamo io vi do la notizia poi ci riflettete voi oggi non voglio neanche fare dei pipponi moralisti basta basta con questa bigotteria Jimmy sei insopportabile dacci la notizia e stai zitto ecco la notizia è questa la Virgin Airlines ti tira fuori queste pubblicità mentre il suo capo è nella lista di quelli che andavano nell'isola dei pedofili insieme a Jeffrey Epstein Bill Clinton e tanta altra brutta gente detto questo spero di avervi dato qualche informazione utile qualche spunto di riflessione come sempre se vi è piaciuto questo video vi invito a dare un cazzottone al pulsante mi piace fatemi sapere come la pensate con un bel commento condividetelo e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti così forse vi arrivano le notifiche e gli aggiornamenti e ribadisco forse perché bisogna vedere se sono in buono o meno quelli dei vari socialist media ci vediamo al prossimo video state informati ciao ciao